No sul punto del reato dei clandestini, ho chiesto se lei in sostanza è d'accordo nel condannare i reati dei clandestini, lei ha detto genericamente che chi sbaglia paga. Però la mia domanda è che una parte degli immigrati non sono gente per bere ma è gente che viene per delinquere, questa mi è sembrato che sfuggisse, ma domani ce l'abbiamo di nuovo con i deputati italiani quindi tornerò sull'argomento. Io credo che anche il tema della poligamia meriti di essere approfondito, io ho fatto un accenno, non è stato ripreso, gli argomenti erano tanti. Comunque il dibattito è stato molto interessante e credo che abbiamo toccato alcuni punti significativi. A me pare che su un punto non credo che abbia idee condivisibili ed è quello, al di là delle posizioni che sono diverse, ed è quello che secondo me l'immigrazione, che è sostanzialmente uno sradicamento di popoli, è un fatto in sé negativo. E quando Papa Francesco dice che in ambienti oscuri si creano le premesse economiche per creare questi drammi, io credo che abbia centrato veramente il punto focale. Non mi sembra che il Ministro Chienge l'abbia colto.